Cosa è la morte digitale? Beh, è certamente un tema interessante quello della morte digitale, perché dal punto di vista giuridico da un lato conferma alcune, come dire, delle teorie che la rivoluzione digitale sta generando nel campo del diritto e dall'altro però, come dire, ne evidenzia i limiti. In questi anni con l'aumento del big data e con la problematica della permanenza e di questa sorta di indelebilità del dato che si accumula costantemente, una delle teorie che i giuristi utilizzano è quella del corpo digitale. Di fronte, a fianco del corpo fisico che è stato oggetto giuridicamente di attenzioni a partire dal 1200, a partire dall'Abeance Corpus, che era appunto questo primo riconoscimento del diritto all'intangibilità della fisicità, si sta affiancando un corpo digitale che però evidentemente soffre di minori garanzie, non abbiamo 700-800 anni di storia giuridica e quindi l'idea del corpo digitale come oggetto di nuove tutele è un argomento che gli avvocati spendono non solo per la privacy e la riservatezza, ma per i diritti all'immagine, per il domicilio digitale, per tutta quella serie di diritti che perdono la materialità, che non hanno un corrispondente nel mondo fisico, ma che sono legati appunto ai dati. I dati digitali hanno trovato storicamente sostanzialmente due grandi forme di tutela. La prima forma di tutela è stata quella del copyright, che tutelava quel dato informatico che era pur sempre un'estrinsecazione di una parte intima del soggetto, cioè dell'autore, tant'è che i diritti morali del diritto d'autore in realtà non sono null'altro che la creatività, un pezzo di personalità dell'autore che si stacca, diventa un'opera e quest'opera grazie alla tecnologia circola indipendentemente dal suo creatore. E devo dire che anche il trattamento dei dati personali, cioè il diritto alla protezione del dato, non ha un'origine poi così diversa da quella del copyright, perché il fatto che a un certo punto, sul finire del secolo scorso e all'inizio degli anni 2000, si è sentito in Europa la necessità di creare un diritto fondamentale alla protezione del dato personale, che trovava una ragione un po' nelle stesse cause che avevano giustificato 300 anni prima il copyright, cioè il fatto che in realtà pezzi delle persone si staccavano, entravano in quella che era appunto l'infosfera, in quello che era il mondo del digitale, ed erano rappresentazioni di quella persona, erano pezzi di quella persona. Questo parallelo è un parallelo che nel momento in cui c'è la morte fisica del soggetto interessato e quindi come dire del creatore di tutta quella parte di sé che è entrata nell'infosfera, in quel momento lì il problema è quella parte lì come viene governata, di chi è, è come se il corpo digitale a un certo punto si staccasse dal corpo fisico e qui c'è un po' la contraddizione, nel senso che se il corpo digitale è un diritto della personalità, nel momento in cui viene meno la personalità, è come se venisse meno anche il corpo digitale e quindi tutti quei dati è come se fossero res nullius, è come se non avessero più un proprietario, è come se fossero, non dico spazzatura, ma comunque sia, non sono più attribuibili a un soggetto. L'aspetto interessante di questo divaricamento che c'è tra corpo fisico e corpo digitale nel momento in cui il corpo fisico muore è il fatto che riguardo ai dati personali, che sono poi appunto le informazioni, che sono poi di fatto la materia prima del corpo digitale, perché il corpo digitale è fatto di quei byte che volontariamente o accidentalmente o anche per coercizione ci rubano costantemente, quel dato lì perde non solo il suo, tra virgolette, titolare che è il soggetto interessato, cioè la persona a cui i dati si riferiscono, ma quel dato lì sembrerebbe, secondo per esempio il nuovo regolamento europeo a tutela dei dati, non essere più un dato personale. In quello che sembra essere il decreto attuativo è stato previsto un articolo che appunto non è presente nel regolamento, che si intitola proprio diritti riguardanti le persone decedute e che cerca di regolamentare che cosa accade di quel corpo digitale, a me se non concesso che si sappia dove sia, certo è molto facile sui social network, che però è anche la problematica usualmente più consueta. Questo articolo di fatto riprende un po' scremato dal familismo degli anni 40, la legge sul diritto dottore, ci dice che i dati personali riferiti a persone decedute possono essere oggetto di richieste che erano le richieste e i diritti dell'interessato, quindi diritti di cancellazione, diritto all'oblio, diritto di rettifica, diritto di conoscenza, possono essere egitate e usa delle espressioni molto generiche, da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione, questa sembrerebbe essere la norma che entrerà in vigore. Salva poi la norma le eventuali disposizioni lasciate specificamente sul social network. Fatte queste considerazioni, devo dire la mia conclusione è un po' questa, è vero l'esistenza di un corpo digitale a fianco di un corpo fisico per noi giuristi è importante, perché tutta quella parte che non è solo la riservatezza, che non è solo la privacy, che forse non è neanche solo l'identità personale, perché poi tutto sommato il trattamento massivo dei nostri dati incide su diritti apparentemente molto distanti dalla libertà di espressione alla libertà di movimento, pensiamo a questa cosa dei metadati e alle celle di comunicazione che di fatto consentono e ci rendono tracciati, non tracciabili, ma tracciati 24 ore su 24 per almeno 6 anni, almeno in Italia. Ecco, allora è chiaro che noi avvocati per far valere dei diritti che sono dei diritti della persona e sono dei diritti fondamentali, utilizziamo questa metafora del corpo digitale. La morte digitale, il tema della digital death, mette in crisi questa cosa, perché in realtà poi la morte digitale non c'è, a meno che non crashi il server, che però è… e debbo dire che secondo me quegli oggetti, quei byte che poi entrano nell'infosfera, una volta che il soggetto è interessato e è cessato, hanno un po' l'effetto davvero delle opere, per cui noi oggi, per carità, godiamo dei promessi sposi di Manzoni, ma non ce ne può fregare meno di chi era Manzoni, insomma, non è più una questione di affettività, è una questione che ci sono quegli oggetti, è un po' l'orrendo quadro dello zio che tutti abbiamo in cantina, che magari non lo butti via perché era dello zio e fin tanto che qualcuno si ricorda dello zio non lo butteremo via, il giorno che sarà morto anche l'ultimo dei parenti che si ricordava dello zio, ne faremo un falò e è finito lì, quindi forse non mi dispererei su ciò che accade, mi dispero di più su ciò che accade dei dati delle persone che sono ancora vive, di quelle che sono morte, le tutele ci sono e capisco che filosoficamente abbia implicazioni notevoli, beh vabbè le lascio ai filosofi, insomma, il diritto deve in qualche modo interessarsi dei vivi.